Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, Sor Angela, all'ospedale. La chiamo al riguardo del signor Gagliardi. È successo qualcosa a Leone? No, no, buone notizie. Ha raggiunto la prima posizione nella lista di attesa del trapianto di cuore. Ma è meraviglioso! Infatti. E l'avvisavo di farlo ricoverare il prima possibile, perché il prossimo cuore disponibile sarà il suo. Certo, certo, lo farò subito. Grazie, sei stata molto gentile. Arrivederci. Come hai detto che si chiama il primo della lista? Gagliardi Leone. Inaugurante per il suo prossimo trapianto di cuore. Non è vero, dottore? Senti, ha mangiato poco stamattina. Allora, quando mangia poco, poi da solito tende a recuperare. Nel senso che mangia tutto velocemente, si strafoga ed è pericoloso. Perché ancora non mastica bene? Lo sappiamo, Valeria. Ce lo dici ogni volta che lo accompagni. Stai tranquilla. Giuseppe, ormai lo conosciamo. E conosciamo anche te. Andiamo, andiamo dentro. E chi c'è? Ciao. Grazie. Ciao. Figurati. Ciao.